Quando gioco a basket, il resto scompare. Forse per questo mi piace così tanto. Credo sia la mia terapia. Pronto a commentare un altro appuntamento con il basket degli Askis? Il problema di Death non è il basket. Deve crescere. Il problema è che non hai vissuto l'odio, il dramma. Se hai un problema, quel problema rovina tutto. Spero di ottenere una borsa di studio. Devo fare qualcosa. Per mio figlio. Giochi nella SEC e due mesi dopo sei qui. Perché se è rotto, non correremo il rischio che la cartilagine arrivi al cervello. Sono stati rifiutati e hanno paura. Io vi aiuto a non avere paura. Il coach ha preparato ognuno di voi per un momento. Cosa darete alla squadra quando toccherà voi? Per qualsiasi cosa potete contare su di me. Io vi i capelli con la squadra. Io vi aiuto a non avere paura. Votre ascilio! Per i capelli con la squadra. Io vi aiuto a non avere paura. Votre ascilo. Per i capelli.